Toccata e funga per Bitcoin sui 28 mila dollari, il pump della domenica è stato completamente riassorbito in questi ultimi tre giorni circa e il gap che si era andato a creare sul grafico del future di Bitcoin sul CME è stato chiuso nel minimo di questa mattina. Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video, ancora nulla di fatto per quello che era la fase di alzista di domenica che è stata riassorbita, ovviamente ragazzi un po' il dubbio lo avevamo perché sabato e domenica sono sempre un po' delle giornate facilmente manipolabili, quindi ci poteva stare, insomma ecco la continuazione per qualche altro giorno ma in sostanza è comunque un tipo di pump quello che avviene sempre nel weekend di scarsa intensità in termini di validità, quindi deve essere comunque confermato nei primi giorni della settimana successiva, cosa che non è stato, tant'è vero che già nella giornata di lunedì il mercato aveva iniziato a stentare, martedì ha provato la fase di alzista poi sembrava recuperare nel finale, mentre nella giornata di oggi in pratica alle 6 di questa mattina è crashato nuovamente portandosi sul supporto precedente a 27,2, non che siano movimenti rilevanti, sono comunque movimenti di scarsa entità, in sostanza continua la sua fase di congestione. Andiamo a fare il punto della situazione però perché questa fase ribassista quindi in sostanza una negazione del tentativo di breccare il canale discendente che avevamo anche visto che è quello che sta tenendo sotto scacco bitcoin dai metà di aprile quando è iniziata la fase di swing al ribasso della chiusura del ciclo semestrale e questa zona qui, questa trend non è stato breccato, quindi il tentativo vedete di andare a livello di questa trend line è stato negato a bitcoin. Questo è un segnale molto negativo, non è un segnale per niente decente perché ragazzi si può innescare una nuova fase ribassista soprattutto se queste medie mobili vanno a non reggere e a quel punto bitcoin potrebbe toccare la fase di ribasso e fare un livello di chiusura del mese come quello che sta tentando di fare proprio nella giornata di oggi non è per niente un bene. Andiamo quindi a ragionare un po' su queste cose e partiamo dal grafico che riguarda il mensile di bitcoin che chiude nella giornata di oggi mensile che ci dà una fotografia abbastanza rilevante di questa gamba rialzista dell'inizio del nuovo ciclo annuale di bitcoin di novembre, partito a novembre del 2022 è una gamba molto importante perché ci fa notare anche come bitcoin ha avuto uno strancio sì ma si è riavvicinato poi sostanzialmente a quella che è la media blu che vedete media blu che è una media a sei mesi del grafico di bitcoin. se notate anche una sorta di linearità vi faccio guardare quella che è la fase temporale del precedente primo annuale del ciclo dell'alving quello che era iniziato nel 2018 la struttura tra il minimo e il massimo è stata di 182 giorni vedete ragazzi cioè 182 giorni ha fatto il massimo e poi ha iniziato una lunga fase discendente che poi è culminata con la questione del covid qui diciamo un po' eccessiva per la questione del covid dove siamo in questo momento siamo a 181 giornate e quindi 181 giorni contro 182 perché c'è un giorno in meno semplicemente all'interno di una settimana e in sostanza ragazzi la possibilità che bitcoin abbia fatto il massimo del ciclo annuale a 151 giorni e c'è e però insomma ragazzi un po' lentuccia cioè se il grafico insomma se all'interno di un ciclo annuale che dura più o meno 400 giorni 360-400 bitcoin si va a creare ci va a creare un massimo a soli 150 giorni questo impone molta cautela perché avendo poi altri almeno 200 giorni disponibili di sviluppo di questa struttura che possono magari confluire anche in una fase laterale ribassista come questa e che parte insomma da un massimo che non è così tanto diciamo importante insomma potremmo poi assistere magari a una fase ribassista più importante con prezzi che magari si avvicinano. Ieri nella live dai Yard Rock, dai ragazzi di Yard Rock mi hanno fatto proprio questa domanda legata al fatto se il minimo del ciclo annuale del ciclo del bear market di bitcoin sia è stato realizzato o no andiamolo a chiarire in questo video perché in realtà il minimo della struttura del bear market ragazzi è avvenuto il novembre del 2022 ancora però essendo che stiamo parlando di cicli a quattro anni siamo un po' in una fase di insomma ancora pericolosetta per indicare che questa zona è assolutamente intoccabile perché all'interno di una struttura ciclica di questo tipo teoricamente bisognerebbe attendere quasi un anno prima di avere un'idea generale che quel minimo ha chiuso il bear market cosa che però rende assolutamente ingestibile l'operatività valutando questo tipo di analisi perché chiaramente noi possiamo aspettare un anno e magari il mercato raddoppia o triplica quindi bisogna agire un po' con un orizzonte temporale un po' più breve per rispondere a questi concetti lasciando o poi il beneficio del dubbio sul fatto che effettivamente ancora manca un po' di tempo ad avere una conferma ufficiale però teoricamente sul minimo del novembre del 2022 è stato chiuso il bear market questa fase ciclica che era quella che avete visto qui è terminata su questo minimo poi che da qui cioè dal minimo di novembre sia iniziato un secondo annuale di bear market c'è la possibilità che questo avvenga però siamo in una outliers statistico in termini di serie storiche passate bitcoin non ha mai fatto una cosa del genere nella sua vita quindi qualora facesse una cosa del genere ne prenderemo atto ma sarebbe la prima volta nella sua storia da quando è nato bitcoin è possibile una cosa del genere sì e no perché anche da un punto di vista fondamentale in realtà quello che è successo nell'anno 2023 cioè il rialzo dei tassi di interesse che è la vera variabile macroeconomica che impatta tantissimo su bitcoin è già avvenuta che i tassi di interesse continuino questa salita ad libdom nella seconda parte dell'anno addirittura nel 2024 è un po' impensabile deve esserci un evento di forza maggiore una causa straordinaria che andrà a impattare sul tasso di infrazione insomma questa roba non la vuole neanche la banca centrale quindi in sostanza i giochi standard a livello macroeconomico sono stati fatti quindi quelli che impattano tantissimo sul mercato delle cripto la recessione come ben sapete dal mio punto di vista non impatta tantissimo sui mercati delle cripto anzi impatta solo da un punto di vista di forza emotiva perché magari i mercati classici inizierrebbero poi a scendere e quindi bitcoin sarebbe correlato leggermente potrebbe diciamo scendere perché se magari andiamo a vedere un nasdaq che incomincia a diciamo inizia una fase un po' più ribassista a quel punto poi magari bitcoin va lo segue eccetera però dal punto di vista tecnico è di fondamentali non c'è nessuna sostanza in questo ragionamento perché le cripto non hanno alcun impatto nella vita della struttura economica del mondo cioè non è che creano un business le cripto stesse lo crea il trading legato per esempio agli exchange e questo sì potrebbe avere un impatto però ragazzi la recessione che impatto può avere sul business di un exchange insomma tra altre cose si sa che quando c'è recessione nei sistemi economici in realtà tutti quei servizi che sono collegati al betting alle scommesse o al trading non ne risentono anzi in sostanza alcune volte aumentano pure per questioni insomma legate all'emotività umana e quindi la parte recessiva teoricamente non dovrebbe avere un impatto effettivo su bitcoin ovviamente è la prima volta che vedremo una cosa del genere e bisognerebbe stare attenti questo però candelina qui che vedete sul Nasdaq fa riflettere perché ragazzi non vorrei che nei prossimi giorni assistere magari a una fase di chiusura di Nasdaq che deve andare a chiudere un ciclo trimestrale tra un po' e quindi fa magari una struttura del genere e poi bitcoin lo segue perché non l'ha seguito nella parte rialzista si è decorrelato nella parte rialzista si correla nella parte ribassista a quel punto indicherebbe molta forza, molta debolezza e quindi forza relativa bastissima rispetto al Nasdaq e quindi lì dovremmo prenderne un po' atto di queste cose qui però da un punto di vista di analisi sul minimo di novembre teoricamente restiamo nell'ottica che il minimo di novembre ha chiuso il bear market che quindi il raggiungimento di un minimo inferiore a 15.479 sia solo frutto di casi straordinari non di casi naturali e quindi deve succedere qualcos'altro di molto grave per spingere bitcoin a quei livelli una cosa che nella storia della nascita di bitcoin non è mai successa è una cosa che anche a livello di fondamentali macro del sistema economico deve essere un disastro perché insomma o bitcoin si correla non so ad un'eventuale recessione nel mondo economico mai vista finora anche lì una causa o un unico avvenimento sarebbe della storia che però non ha neanche un fondamento di natura tecnica quindi è solo emotività insomma ragazzi ci sono insomma tante situazioni quando invece un po' secondo me si va a non considerare il concetto che probabilmente l'anno prossimo magari se può la fed i tassi li abbassa e quindi questo discorso impatterà positivamente sui mercati delle crypto quindi forse da un punto di vista fondamentale i lati positivi sono maggiori rispetto a quelli negativi sulla tenuta di questo trend realista e quindi sul non touch del successiva fase al ribasso quindi dei 15.400 detto questo come sapete i mercati sono imprevedibili tutto è possibile però le logiche che vi sto dicendo sono dati di fatto statistiche insomma scientifiche quindi non è che sono opinabili queste cose qui se fa una cosa del genere sarebbe la prima volta nella storia da un punto di vista tecnico dovremmo assistere prima alla chiusura di questo ciclo semestrale e poi parlare successivamente secondo me perché la ripresa del ciclo successivo potrebbe magari portare Bitcoin a fare magari un massimo non proprio qui in questa parte di app intorno ad aprile ma un po' più in là vi ricordo che qui comunque il massimo era venuto molto tempestivo a 182 giorni ed è vero però da un punto di vista di oscillazione in termini di movimento avevamo fatto 350% di recupero con un'oscillazione qui che è di gran lunga inferiore ragazzi perché vedete come la struttura di volatilità di Bitcoin si è estremamente ridotta naturalmente niente di anomalo in base al fatto che la sua capitalizzazione aumenta in maniera considerevole quindi questa fase di alzista è stata del 100% 120% circa eccolo un po' di meno ecco infatti mi ricordavo ok è stata di circa 100% rispetto a una precedente fase che era stata del primo ciclo dell'albing teoricamente del primo ciclo annuale dell'albing che era stata di oltre 300 punti insomma è evidente che questa spinta rialzista di Bitcoin è un po' deboluccia rispetto alle precedenti questo può indicarci che il tipo di movimento attuale è più lento dei precedenti è quindi un massimo fatto in 150 giorni è un po' un massimo diciamo un po' forse troppo troppo prematuro dovremmo attendere il secondo semestrale perché questo dato appunto sull'entità del rialzo ci dà questa informazione oppure l'unica alternativa a questo è che l'annuale in questione sia così debole che ce ne renderemo conto fra un poco ragazzi e se sarà così debole in pratica lì c'è la possibilità in effetti di andare a fare un eventuale doppio minimo quindi la risposta se il minimo del ciclo del bear market di Bitcoin è stata fatto meno secondo me bisogna ragionare in termini di analisi di probabilità come tutte le cose nel trading però poi oggettivamente noi dobbiamo ragionare in termini operativi quindi a livello operativo è stato fatto il minimo quindi noi operiamo come se il minimo fosse stato fatto a novembre ma a livello tecnico l'abbiamo gli occhi aperti su queste possibilità che vi dicevo è sul fatto che effettivamente potrebbe assistere potremmo assistere a un'anomalia unica un cigno nero unico su Bitcoin che potrebbe modificare queste serie storiche quindi noi lo teniamo sempre in considerazione e per questo che tutto è rimandato nel secondo semestrale di Bitcoin dopo la ripartenza che ancora non c'è non c'è stata e dovremmo stare a guardare questa cosa ora andiamo più nello specifico nel breve vi faccio capire che per chiudere diciamo il video vi faccio capire che questo candela mensile che chiude in questo modo non è bella perché? perché significa che domani che è 1 giugno quando viene aperta la candela mensile e se apre a un livello tale e Bitcoin di solito tenta di fare una mini shadow ragazzi quindi anche chi vuole disegnare una candela completamente verde quindi rialzista tenterà comunque di scendere un po' sotto e questo un po' sotto a livello mensile può indicare che in questa fase di breve magari il mercato va in tocco dei 26,6 26,7 questo è il significato cioè questa chiusura che avviene proprio nella giornata di oggi troppo bassa che è stata creata dal crash di questa notte non paga e lì ragazzi subiremo probabilmente le conseguenze di questa cosa quindi vedete questo movimento non quelli di ieri e l'altro ieri ma quello di oggi è molto negativo quindi se non viene recuperato nella giornata stessa di oggi il rischio che da domani il mercato faccia magari un piccolo rimbalzo ma poi nei prossimi giorni tenti di sforare e di appoggiarsi su questa verde qui c'è c'è sempre ragazzi e quindi questa cosa qua va valutata perché il fatto che a livello mensile Bitcoin vada a disegnare una full green come ha fatto in questa zona qui cioè a gennaio 2023 è molto difficile è possibile perché a gennaio l'ha fatto ragazzi ha aperto 16.500 e ha fatto un minimo a 16.496 cioè quindi 34 dollari su questo grafico al di sotto questo è bit stamp quindi l'ha fatto però sono proprio ragazzi cose va rarissime in tutto il resto delle candele vedete c'è sempre una mini shadow qui ha fatto una specie di all green anche in questo caso aveva aperto a 4.092 insomma ha fatto un minimo a 4.053 40 dollari ma comunque 40 dollari dei 4.000 non erano poco ragazzi era sempre un'oscillazione diciamo un po' dell'1% un po' qualcosina niente di rilevante però l'aveva fatto e qui anche se fa un'oscillazione dell'1% comunque se li si mangia quei 2-300 dollari portandosi intorno ai 26.9 questo è tecnicamente la questione questo minimo quindi questa fase di chiusura della giornata di oggi è molto rilevante proprio per i prossimi 2-3 giorni perché potrebbe impattare negativamente sull'apertura del mensile è difficile che il mercato con una close di questa candela qui vada a fare poi una candela verde totale tutto è possibile però è un caso molto raro come vi sto dicendo ragazzi quindi se invece chiude per esempio recuperando nel finale chiude sulla parte alta allora cambia perché andando a chiudere magari intorno ai 27.7 27.8 ma dovrebbe fare un'accelerazione proprio questo pomeriggio allora lascia spazio perché anche una oscillazione fino a di nuovo a 27.2 27.3 non sarebbe problematica nel nuovo tentativo di fare il breakout di questo livello perché bitcoin in questo momento ha solo questo obiettivo perché nel breve periodo non ne ha un altro ragazzi cioè distruggere questo fase questo livello di resistenza quindi qui sta raccogliendo le forze con una candela che chiude in questo modo a fine del mese non è così è semplicemente un fake questo rialzo che è avvenuto domenica che ha riportato i prezzi dove erano precedentemente vedete sulla stessa struttura è una cosa del genere che inizia il mese con delle candele del genere potrebbe addirittura tentare con grande tranquillità nuovi minimi perché la questione è che può fare una cosa del genere e poi tentare di fare un down proprio nei primi giorni avvicinandosi ai 25.000 e in quel caso ragazzi questa domenica fatta qui questo touch di questo livello sarebbe stato l'ennesima manipolazione truffa truffissima diciamo così e ragazzi tra altre cose c'è anche una mia operazione quindi ha preso anche la mia in questo caso se dovesse fare questo tipo di discorso tutto si gioca quindi nella giornata di oggi che sembrerebbe non buona per niente e vedere appunto dove va a chiudere oggi e vedere la giornata di domani cioè l'apertura del mese che cosa combina al momento quindi ragazzi fate molta attenzione a questa fase perché è stato nuovamente sostenuto il livello di resistenza di bitcoin che vi ho fatto vedere e questo porta molto rischio in una nuova fase di swing quindi il mercato potrebbe tranquillamente fare uno swing del genere vedete quindi con grande tranquillità deve mantenere questo livello qui che vedete in questo caso cioè 26 e 7 lo deve mantenere se riesce a mantenerlo e riprova un test allora dimostra un po' di forza ma fino ad allora cioè fino al a patto che questa candela che avete visto qui deve essere totalmente riassorbita da un nuovo app e quindi bisogna ritornare in zona in zona 27.900 28.000 qui bisogna ritornarci immediatamente se non ci arriva non c'è nessuna possibilità secondo me di non assistere a questo crash ribassista è molto pericolosa questa fase quindi il lacco di questi 1000 dollari sono molto indicativi ragazzi molto di più di altre situazioni va bene allora abbiamo concluso per oggi è tutto fatemi sapere anche voi però una risposta la vostra risposta a questa domanda il ciclo dell'albing di bitcoin e del bear market di bitcoin è stato chiuso secondo voi a novembre del 2022 cosa ne pensate o qualcuno di voi si aspetta un nuovo minimo nei commenti ciao raga